Il termine Sengu per me ha un gran bel immaginario perché è legato a questo rituale, a questa ceremonia di costruzione e ricostruzione dei certi santuari giapponesi. Ma a tema Sengu abbiamo introdotto nuovi moduli che credevo importanti anche per dare più vita al modo della convivibilità che credo sia fondamentale in questi sistemi. Mi piace molto il fatto che abbiamo lavorato in due anni, mi piace molto perché è una modalità che ci ha permesso di sperimentare in maniera diversa un sistema di seduta.